Giovantino Antonio Rossini, meglio conosciuto come Giochi Rossini, compositore e la tua testa nel 1792, composta da sua prima lettera di 14 anni, scrisse 39 opere di rilievo in 19 anni, per questo punto non ero in moda italiana. Fu il Presidente Finito del Sede Premazzini un titale di potenza e deodaccia eliminavo le ore di un'epoca così grande, che non so. Nell'area 25esimo anniversario, che è questo, nella sua volta riproporiamo la quota delle aree di 15 anni, tratte dalle sue materie, quindi da Gabriele Tessitica, da la Casa Rocca, dalla Cenerentia, dall'Italiani Maggerri, dal Rosario Egitto, dal Cancretti, e la Liga Modelle. A voi i prossimi festival! Pierna Tessitica, del Dolin Yammerri, tutti che iniziamo alla stanza per la tua terra. Qu'è il mondo ne ha utile? Noi per la tua terra! Qu'è la terra! Qu'è il mondo? Qu'è il mondo?" Qu'è il mondo? Qu'è la terra? Qu'è il mondo? 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.